Allora, qui faremo una breve introduzione allo scavo. Scavo che è stato avviato e concluso tra il 1969 e il 1972 da parte di uno studioso, di un archeologo dell'Università della Pensilvania chiamata Dischia da Giorgio Buckner. Dopo 50 anni lo scavo è ripreso ora grazie alla sovrintendenza per l'area metropolitana di Napoli in collaborazione con, in concessione di scavo con l'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale il professor Matteo D'Acunto è l'altro direttore scientifico dello scavo e con la piena collaborazione del comune di Laccomeno che ci ha supportato nella parte logistica. Mi preme in questo momento farvi notare un po' intanto il posizionamento di quest'area rispetto a quello che conosciamo dell'insediamento antico. L'insediamento antico che sapete aveva, utilizzava la valle di San Montano, questa campita in rosso per le necropoli, la zona di Montevico come acropoli, come sede probabilmente dei luoghi di culto e poi invece la parte bassa dove aveva, probabilmente c'era l'approdo, anzi l'acquameno, Pitecus e il nome antico dell'insediamento, aveva due approdi nella baia di San Montano e poi dove è l'attuale approdo di Laccomeno. Nella parte bassa si situava il quartiere per la produzione della ceramica, sotto la chiesa di Santa Restituta come sapete esistono le fornaci per la produzione di ceramica. Un altro quartiere artigianale fu rinvenuto proprio nel punto in cui noi ci troviamo, in una fascia, vedete, un po' soprelevata rispetto al porto, siamo al di sopra della fascia dei 50 metri sul livello del mare, dove sono stati trovati in vari punti i resti dell'antico insediamento. In particolare noi ci troviamo in località Mazzola, è una zona, come vedete, racchiusa alle spalle da due colline, quindi qui aveva sede un altro quartiere artigianale destinato però alla produzione di oggetti in metallo, quindi all'estrazione dei metalli e alla produzione di oggetti in metallo, sicuramente ferro, bronzo e molto probabilmente anche si lavoravano i metalli preziosi, perché ricorderete che uno degli invenimenti fatti negli anni appunto nel secolo scorso era un piccolo pesetto da telaio che serviva proprio per la misurazione e il peso di oggetti di piccola taglia, quindi in metallo prezioso. E questo ci rimanda alla tradizione storica di Strabone che parla della presenza di cruseia sull'isola, quindi che alcuni studiosi avevano interpretato come presenza di miniere d'oro, invece molto più probabilmente fanno riferimento alle attività di produzione di oggetti in metallo prezioso. La cosa importante di questo quartiere è che ci permette di conoscere le tipologie abitative, le tipologie edilizie che erano sostanzialmente utilizzate dal primo momento di vita dell'insediamento, quindi dalla metà dell'VIII secolo fino sicuramente agli inizi del VII. Sono state trovate delle strutture che si riferiscono a degli edifici a carattere abitativo, ma anche delle strutture che invece erano destinate alla produzione artigianale. Quindi all'interno di queste strutture sono stati trovati piani di lavorazione, scorie di ferro, scarti per esempio di fibule, quindi di oggetti che venivano utilizzati nella vita quotidiana. Il lavoro che noi stiamo facendo in questa campagna in particolare è di verificare le stratigrafie degli scavi effettuati nel secolo scorso e questa prima è ovviamente anche recuperando tutta la documentazione che si era accumulata nel tempo, cercando quindi di capire un po' meglio, di scendere in profondità su quella che era la sequenza della stratificazione di questo sito. Che è cosa fondamentale, al di sotto della fase di età greca, quindi di età tardogeometrica della seconda metà dell'VIII secolo, ha rivelato tracce di un insediamento dell'età del bronzo. Noi sappiamo che a Isca esistevano diversi punti, diversi villaggi, a Montevico, a Castiglione, qua esisteva un altro villaggio e per la prima volta sono stati trovati i resti di una struttura capannicola che ha restituito accanto a ceramiche ed impasto anche dei frammenti di ceramica micenea. Quindi con questo confermando il fatto che Ischia nell'età del bronzo partecipava ai traffici che noi conosciamo anche dalle altre isole, Flegrei in particolare, come sapete, da Vivara. Lo scavo che appunto abbiamo ripreso come Università all'Orientale, come soprintendenza, è uno scavo particolarmente importante per la comprensione di Pitecussai e particolarmente importante per la comprensione del momento d'oro di Pitecussai, cioè il momento iniziale tra il 750 e il 670 a.C., che è appunto un momento che viene illustrato dalle strutture che voi vedete, che sono strutture che si riferiscono soltanto a un piccolo settore dell'abitato. Noi sappiamo appunto che questo abitato si sviluppava su terrazze lungo le pendici della collina e secondo le indicazioni di Klein e di Ridgeway si sviluppava addirittura per circa 500 metri lungo questo pendio. Quindi dobbiamo immaginare un'area abitativa molto estesa che aveva, diciamo, una controparte nell'area abitativa che occupava l'acropoli di Monte di Vico, facendo configurare un modello insediativo costituito da diversi cluster che occupavano appunto le colline. L'eccezionalità di questo scavo nasce dal fatto che di fatto qui la stratigrafia archeologica si riferisce a tre momenti molto distanti nel corso del tempo. Come diceva prima la collega 54, c'è un primo momento occupato da un villaggio dell'età del bronzo, eccezionalmente illustrato da parte di una capanna, momento nel quale, siamo verso la metà del secondo millennio a.C., gli indigeni avevano creato una rete di traffici con i mercanti micenei che provenivano dai palazzi micenei della Grecia, come testimoniato dal rinvenimento di ceramica micenea in questi contesti, creando una rete di rapporti che metteva insieme i diversi villaggi localizzati sull'isola di Ischia anche con quelli di Vivara. Poi c'è un'interruzione determinata probabilmente da eventi di carattere naturale per circa 600-650 anni e un'occupazione che si colloca nel momento iniziale della fondazione di Pitecussai. Quindi allo stato attuale i coloni euboici, i coloni che vengono dall'isola di Eubea e fondano Pitecussai, almeno in questo settore, sembrano andarsi ad impiantare in un'area deserta. Quindi configurando anche una situazione storicamente differente rispetto alla fondazione di Cuma, che si trova proprio, diciamo, di fronte, dove invece i coloni che provenivano sia dall'Eubea che da Pitecussai si vanno a sostituire rispetto appunto al villaggio indigeno. In questo caso, diciamo, la maggior parte di queste strutture si riferiscono, lo dicevamo, all'orizzonte più importante di Pitecussai e ci consentono di leggere un aspetto fondamentale dell'economia dell'insediamento, che è quello della produzione artigianale. I coloni arrivano appunto con delle capacità di sfruttamento delle risorse, sia per quanto attiene, diciamo, alla produzione della ceramica, sia per quanto attiene alla produzione dei metalli. Naturalmente, nel caso dei metalli, le materie prime arrivavano attraverso commerci a lunga distanza. Quindi vari edifici, tra cui l'edificio 3, la bottega nella quale appunto stiamo effettuando dei sondaggi, documentano la lavorazione del ferro e del bronzo in posto. Questo è documentato attraverso scorie di lavorazione e appunto forge. Naturalmente dobbiamo immaginare appunto un artigianato di tipo specializzato, in cui venivano prodotti degli oggetti in ferro e in bronzo, che venivano rivenduti non soltanto nel mercato locale, diciamo, ma anche nel mercato della Campania. Resta la suggestione, magari il proseguo delle ricerche ci darà delle indicazioni in questo senso, che anche i metalli preziosi fossero lavorati in questo sito, come suggerito appunto dalla fonte di Strabone. Un altro aspetto importante che è illustrato dallo scavo di Mazzola per quanto riguarda la fase d'oro di Pitecussei è rappresentato dal fatto che qui non erano presenti soltanto delle botteghe metallurgiche, ma almeno nella prima generazione, cioè tra il 750 e il 720, è documentata almeno una abitazione, che è quella che vedete qui alle spalle, che è un'abitazione in cui l'archeologo americano Klein trovò gli oggetti in posto, dei vasi, diciamo, che riflettono quelle che sono anche le ambizioni sociali del proprietario di questa abitazione, per cui troviamo, per esempio, un conservato, un cratere che rappresenta dei cavalli che erano il simbolo delle aristocrazie che fondano Pitecussei, e naturalmente tutta una serie di vasi che erano legati al consumo cerimoniale del vino, che normalmente siamo abituati ad associare a delle pratiche di tipo elitario. Quindi, diciamo, in questa maniera noi riusciamo a ricostruire il modello di un insediamento che fondava la propria economia sull'artigianato, ma in cui gli artigiani non erano, come nell'immagine di Platone del IV secolo a.C., delle figure di basso livello sociale, ma rappresentavano, appunto, delle figure di livello sociale, diciamo, relativamente elevato. Da questo contesto viene anche quella che possiamo considerare un'ulteriore testimonianza dell'orgoglio degli artigiani, e cioè il frammento con la più antica firma di un artigiano, in particolare di un vasaio, nota da tutto il mondo greco, datato verso il 720 a.C., che ci riporta, appunto, nell'economia di questo insediamento nei quali gli artigiani occupavano una posizione di spicco. Va ricordato che su questo frammento, sempre per riflettere su questo aspetto, diciamo, della figura degli artigiani, è rappresentata probabilmente la figura di una sirena. Le sirene, come tutti sappiamo, sono collegate con la tradizione epica e con i viaggi di Odisseo, che già dall'VIII secolo a.C. erano ambientati in questo tratto del tirreno. Insomma, i nostri artigiani erano dei personaggi che portavano con sé anche una cultura di tipo letterario, in un mondo che potremmo definire così apparentemente lontano, in realtà la cultura circolava, la cultura epica, come anche testimoniato dalla Coppa di Nestore, e di questa cultura gli stessi artigiani erano pienamente a conoscenza. Tutto questo, quindi, ci riporta in quello che è il motore dell'economia, uno dei motori dell'economia di Pitecusa, e naturalmente accanto agli aspetti legati al commercio e all'agricoltura. Su un ultimo punto volevo richiamare la vostra attenzione, che è quello dello stato di conservazione del quartiere di età geometrica, cioè dell'età d'oro di Pitecusai. Voi, non solo in Magna Grecia, ma anche nel mondo greco, non troverete eguali come livello di conservazione delle strutture per quanto riguarda appunto gli elevati. Lo stato di conservazione appunto di questi edifici dell'inizio della colonizzazione greca è del tutto eccezionale. Quindi non solo l'aspetto della ricerca che noi stiamo portando avanti, ma anche l'aspetto della fruizione di quest'area da parte dei visitatori, appunto anche da parte degli specialisti, è un aspetto del tutto fondamentale. In questo senso voglio ricordare la bella esperienza che abbiamo avuto nel corso dei giorni precedenti, appunto la soprintendenza, l'università e il comune hanno lavorato insieme alla riapertura alla cittadinanza dopo tanti decenni di quest'area e abbiamo avuto veramente un afflusso impressionante. Quindi c'è tanta voglia di archeologia a Pitecusai che rappresenta un contesto eccezionale nella storia dell'Occidente. Da qui è iniziata la colonizzazione greca d'Occidente, da qui è passata la trasmissione dell'alfabeto greco dagli euboici alle popolazioni italiche e appunto ai latini. Quindi la nostra ricerca, che ha una prospettiva di lunga durata, quest'anno, come diceva la collega 54, stiamo precisando delle cronologie e delle funzioni attraverso le stratigrafie al di sotto degli edifici. In realtà, diciamo, ha un progetto ambizioso quello di allargare l'area di scavo anche sulla base dell'indicazione e dell'estensione di questo quartiere. L'archeologia è un modo di fare storia attraverso i contesti e le stratigrafie e nel caso specifico dell'insediamento di Pitecusai l'archeologia gioca, ha giocato un ruolo fondamentale nella comprensione di quello che è stato il più antico insediamento greco in Occidente. E da questo punto di vista, le fonti letterarie, gli autori antichi che ci parlano di Pitecusai ci forniscono delle informazioni molto striminzite, molto brevi, che invece hanno conosciuto un notevole arricchimento grazie agli scavi condotti da prima da Giorgio Buckner e appunto che continuano ancora adesso. Le ricerche archeologiche di quest'anno che vengono condotte sulla terrazza superiore del sito di Mazzola sono in realtà state precedute da un intervento di scavo voluto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paisaggio per l'area metropolitana di Napoli tra il novembre del 2023 e il febbraio del 2024. Queste si sono concentrate nella terrazza inferiore che si dispone immediatamente al di sotto di un grande muro di terrazzamento che va appunto a contenere la terrazza superiore e la scelta di quest'area non è stata casuale in quanto quest'area era stata interessata solo parzialmente dalle ricerche condotte dall'archeologo americano Klein nella sua ultima campagna di scavo del 1971. Si preservavano dunque in alcuni punti larghe parti di stratigrafie archeologiche ancora intatte e quindi diciamo è stata una sorta di scommessa da parte della Soprintendenza per cercare di capire se era possibile recuperare stratigrafie archeologiche ancora intatte in qualche modo recuperare nuovi dati ma al tempo stesso ricucire diciamo la documentazione prodotta da Klein con i nuovi scavi. Questa scommessa sicuramente è stata vincente perché i dati che sono emersi sono sicuramente significativi e ci consentono di leggere tutte e tre le diverse fasi di occupazione del sito di Mazzola in particolare per quanto riguarda la fase più recente immediatamente a nord della terrazza inferiore nel VI secolo a.C. viene realizzato un grande edificio a pianta rettangolare che prosegue, i cui limiti proseguono oltre i limiti imposti diciamo dallo scavo e questo ci dà anche la dimensione di come lo scavo di Klein dovette interrompersi diciamo in un certo momento e non proseguire e questo però ci dà anche la possibilità di immaginare che espandendo la nostra area di scavo noi riusciremo a recuperare in estensione anche questo grande edificio che si sviluppa verso nord-est. come in tutta l'area di scavo era già stato scavato da Klein immediatamente al di sotto delle fondazioni quindi non abbiamo avuto la possibilità di leggere i piani d'uso che funzionavano in fase con queste strutture però il dato che siamo riusciti a ottenere è comunque prezioso perché lavorando sui livelli preparatori di questo edificio noi abbiamo recuperato materiali, reperti ceramici che per noi diciamo la ceramica è un po' il fossile guida per la datazione in archeologia e quindi i materiali che abbiamo recuperato ci consentono di datare puntualmente appunto la realizzazione di questa struttura chiaramente espandendo l'area di scavo avremo la possibilità invece di recuperare effettivamente il prosieguo e quindi anche i piani d'uso e quindi comprendere la funzione di questo edificio. Non è gravitativo però? Sulla base dei dati che abbiamo al momento non possiamo escluderlo ma non possiamo neanche affermarlo con certezza necessariamente il prosieguo degli scavi dovrà rispondere a questa domanda quello che è interessante è che questi strati di preparazione per l'edificazione di questa struttura andavano a obliterare un livello di cenere e pomici vulcaniche che sigillava di fatto tutte le stratigrafie sottostanti i reperti ceramici che noi ritroviamo immediatamente al di sotto di questo strato vulcanico si datano bene intorno al 670 avanti Cristo quindi questo ci dà la dimensione di come per circa 70 anni dopo un evento di natura vulcanica il sito dovette essere in qualche modo abbandonato non ritenuto più abitabile quindi la vita riprende nel VI secolo però questo strato di cenere sigilla la fase più antica quindi lo scavo della soprintendenza è andato a indagare in estensione tutta l'area circostante in particolare cercando di comprendere il rapporto esistente tra delle strutture che sono appunto posizionate in quest'area e una parte invece aperta in particolare noi riusciamo a leggere due diverse fasi edilizie di una struttura, una struttura più antica a pianta ovale di cui è possibile molto bene leggere appunto la planimetria curvilinea sulla quale si va a impostare invece un edificio a pianta rettangolare ora entrambi questi edifici furono come dicevo prima già scavati da Klein immediatamente al di sotto del livello delle fondazioni quindi sull'interpretazione di queste strutture noi ci dobbiamo basare sostanzialmente su quanto Klein riporta nei suoi taccuini di scavo e in particolare per la struttura più antica quella pianta ovale che sulla base dei reperti associati che Klein recupera noi datiamo intorno al 750 avanti Cristo quindi un edificio che vive contemporaneamente rispetto all'edificio 1 sulla terrazza superiore lui nei taccuini ricorda di non aver rinvenuto scorie legate alla lavorazione del ferro né apprestamenti di attività metallurgiche quindi diciamo l'interpretazione resta aperta però potrebbe trattarsi in realtà di un'abitazione comunque non è chiaro però non ci sono tracce di questo tipo mentre invece quando l'edificio intorno al 720 avanti Cristo cambia planimetria quindi da struttura ovale diventa struttura rettangolare Klein riporta il rinvenimento di scorie di lavorazione del ferro apprestamenti come forge quindi sicuramente questo cambio planimetrico corrisponde anche a un cambio di destinazione d'uso della struttura proseguendo diciamo al di sotto quindi scendendo in profondità stratigraficamente abbiamo intercettato la fase invece dell'età del bronzo medio 2-3 quindi 1500-1400 avanti Cristo che si va proprio a posizionare immediatamente al di sotto rispetto alle stratigrafie tardog geometriche indicando anche in questo caso una lunga fase di abbandono dell'area quindi apparentemente in questo punto tra l'età del bronzo medio e l'epoca tardog geometrica non ci sono resti che attestino un'area che è antropizzata quindi dobbiamo immaginare un'area non occupata questa fase dell'età del bronzo medio era già emersa dagli scavi Klein però diciamo in che modo? Klein lavora all'inestensione all'interno di tutte le strutture in alcuni punti decide di aprire delle trincee rettangolari che scendono in profondità e diciamo questo consentì all'epoca di recuperare questi materiali che però di fatto erano decontestualizzati perché una sorta diciamo di qui si può vedere una quindi c'è una grande trincea rettangolare in cui lui scende in profondità estrapola diciamo questi oggetti che però di fatto risultano decontestualizzati e in archeologia il contesto diciamo è l'elemento principale per la comprensione di tutto ciò che noi andiamo ad indagare quindi in questo caso invece con lo scavo della soprintendenza procedendo con metodologie moderne e corrette ha indagato quindi in estensione questa fase legata all'occupazione dell'età del bronzo ed è stato possibile mettere in luce una parte di una capanna di quest'epoca che aveva una fondazione in blocchetti di tufo di piccola pezzatura cui si andavano ad addossare una serie di buche di palo quindi per noi sono la traccia è negativo di pali lignei che erano addossati alla struttura e che conferivano stabilità agli elevati che dobbiamo immaginare legno o mattone crudo o comunque materiale deperibile che chiaramente a distanza di 3500 anni non si sono più conservati mentre invece nella parte interna di questa struttura si conservavano due grandi buche circolari che erano utilizzate verosimilmente per alloggiamento di grandi vasi che potevano contenere derrate alimentari quindi ad uso diciamo le evidenze del vostro studio del 2023-2024 sono dati nuovi e diciamo anche per concludere anche il grande elemento di novità che è emerso da questo scavo è che i materiali che provengono da questa struttura che noi ci consentono di datare puntualmente appunto la realizzazione quindi l'occupazione di questa fase dell'età del bronzo sono associati a pochi frammenti di ceramica invece importata dall'Egeo quindi esatto ceramica micenea e quindi il sito di Mazzola si va a inserire in un quadro più ampio di questi insediamenti dell'arcipelago Flegreo in cui relazioni e discambi tra il mondo Egeo e l'Italia meridionale durante le attività di magazzino normalmente laviamo e cataloghiamo la ceramica proveniente dai diversi strati indagati in particolare la ceramica che fuoriesce dai diversi contesti di scavo quindi dagli edifici 1, 3 e 8 è per lo più pertinente a ceramica d'impasto in particolare ceramica d'impasto della media età del bronzo quindi riferibile ai livelli precedenti all'arrivo degli eugoici qui ad Ischia ed è appunto pertinente a questo tipo di ceramica che vedete qui cioè sono per lo più scodelle e tazze che sono appunto fatte a mano quindi fondamentalmente non sono tornite ma lavorate a mano e successivamente lisciate attraverso la steccatura vedete ci sono appunto forme più antiche come per esempio queste che sono riferibili al bronzo medio 1b2 e forme invece più recenti come queste che sono invece riferibili al bronzo medio 2b3 quindi ci troviamo in un arco cronologico compreso tra il 1500 e il 1300 a.C. Contestualmente troviamo anche ceramica di tipo diverso in questo caso si tratta di questi frammenti pertinenti ad un unico individuo si tratta di una forma chiusa di ceramica micenea che attesta appunto che durante appunto questo periodo durante la media età del bronzo i micenei appunto commerciavano con le genti che popolavano in questo caso l'isola pertinente invece ad un'altra fase cronologica è questo tipo di ceramica che invece vedete qui che è per lo più attribuibile al periodo tardogeometrico in particolar modo il tardogeometrico 1 le primissime fasi del tardogeometrico 1 qui avete ad esempio delle cotilai quindi delle coppe per bere sono delle forme aperte come vedete all'interno sono verniciate e sono appunto attribuibili ad una prima fase del tardogeometrico 1 intorno al 750 avanti Cristo sono quasi tutte di imitazione locale quindi sono prodotte qua qui ad Ischia su un modello ovviamente greco abbiamo poche importazioni ad esempio questa è un'importazione di Cotile Aethos 666 proveniente dall'area di Corinto in questo caso ci sono anche i fori di restauro antico e sono quindi pertinenti a questa prima fase dell'insediamento quindi greco di Pitecusai oltre le cotilai abbiamo anche gli schifoi e le tazze che sono sempre appunto forme per bere in questo caso ad esempio abbiamo una tazza riconoscibile perché appunto ha un'anzannastro verticale che tra l'altro possiede anche un'iscrizione graffita che vedete qui sull'ansa si tratta di due segni alfabetici una mi a cinque tratti e una mi a tre tratti in alfabeto e uboico quindi si tratta appunto chiaramente di due segni alfabetici che molto probabilmente sono riferibili alle iniziali o comunque al nome del proprietario della tazza oltre poi le forme appunto per bere ci sono anche diverse forme per versare quindi liquidi come per esempio le oinokoai che sono appunto delle brocche qui avete ad esempio alcuni frammenti riferibili al collo dell'oinokoe con l'attacco appunto della spalla e qui ci sono appunto delle decorazioni che sono tipiche del panorama uboico e anche attico come per esempio le losanghe puntinate e anche il serpente molto stilizzato con appunto puntinato intorno oltre poi forme per per versare abbiamo anche forme per esempio per mescere il vino con l'acqua quindi i crateri che sono delle forme aperte di grandi dimensioni e in questo caso possiedono un tipo di decorazione molto particolare che in realtà è attestata soprattutto in eubea cioè il cosiddetto white on dark che è un tipo di decorazione appunto sovradipinta in bianco su fondo su fondo nero o comunque su fondo scuro ed è appunto tipica di questa prima fase diciamo dell'insediamento greco di Pitekustai in questo caso si tratta di una presa appunto vicina all'imboccatura del vaso inoltre inoltre sono per esempio abbiamo anche attestazioni della bottega del pittore di Cesnola in questo caso se vedete il frammento che presenta questo tipo di raffigurazione di figura si tratta di un cavallo con la criniera lo vedete qui nell'angolo e un cerchio con il puntino intorno che sono appunto riferibili a diciamo elementi tipici della bottega del pittore di Cesnola che in realtà ha diverse attestazioni nel mondo greco a Cipro nelle cicla di Ineubea e in questo caso si tratta di un prodotto diciamo locale che imita appunto quel determinato repertorio e poi abbiamo ad esempio anche qui abbiamo un'altra forma che è riferibile in questo caso ad un piatto molto particolare che conosciamo bene in realtà che è fuoriuscito dall'edificio 3 in realtà attacca quindi è contiguo ad una serie di frammenti che attualmente sono esposti al museo di Pitecuse e che sono stati trovati durante gli scavi di Klein negli anni 70 oltre poi questo tipo di attestazioni abbiamo anche attestazioni più recenti quindi che attestano le fasi successive dell'insediamento come per esempio questo fondo questo piede di cotile quindi sempre una forma per bere in questo caso del medio protocorinzio e lo sappiamo appunto perché ha questo tipo di decorazione a raggi sul fondo che è tipica appunto di quella fase cronologica in questo caso è un'importazione corinzia e poi l'ultima fase di attestazione è quella riferibile a questo tipo di materiale qui cioè le coppe ioniche in questo caso si vede bene la differenza tra quelle di importazione e quelle di imitazione locale che sono appunto in realtà un marker cronologico in questo caso degli inizi del VI secolo avanti Cristo Vice sindaco di L'Acquameno Carla Tufano per tracciare un po' un bilancio di questi giorni di apertura speciale degli scavi archeologici di Mazzola a L'Acquameno che hanno ripreso la loro attività grazie a un progetto che ha visto protagonista anche l'Università Orientale una occasione in più per L'Acquameno e per l'Isola Tutta di andare alla ricerca delle proprie radici continuando un lavoro che era partito ovviamente proprio dall'Acquameno Sì è stata un'occasione bellissima per l'intera comunità ischitana e per i turisti siamo molto soddisfatti per la partecipazione perché durante queste tre visite hanno partecipato ha partecipato un pubblico molto eterogeneo non solo diciamo le persone che seguono abitualmente gli appuntamenti culturali ma veramente un pubblico vasto dai bambini ai ragazzi a gente di tutte le professioni infatti abbiamo avuto molte prenotazioni e tanti sono purtroppo rimasti fuori da queste visite abbiamo avuto anche una grande richiesta dalle scuole e speriamo in accordo appunto con la soprintendenza e l'università di poter nel futuro anche riaprire ad altre giornate perché c'è stato davvero tanto interesse questo non ci ha stupito perché noi stiamo lavorando tanto sulla promozione del museo dell'archeologia e dei nostri beni culturali diciamo abbiamo puntato tanto come amministrazione nella valorizzazione e vediamo che c'è un grosso seguito anche da parte dei turisti e quindi bisogna puntare a questo turismo culturale perché Ischia come abbiamo sempre detto ha bisogno anche di vivere in altri periodi dell'anno non solo quelli diciamo centrali di luglio e agosto io voglio ringraziare la dottoressa Teresa Elena 54 direttore del segretariato del ministero della cultura della regione Campania che è stata diciamo una guida importante sia durante le visite sia in tutto questo percorso il professore Matteo D'Acunto che anche lui ha seguito intensamente gli scavi e ci ha guidato in queste tre giornate la dottoressa Maria Luisa Tardugno e la soprintendenza dell'area della città metropolitana di Napoli in più vorrei sottolineare il successo di questo progetto è stata proprio anche la sinergia tra gli enti abbiamo collaborato e appunto il risultato c'è stato e c'è stata grande attenzione e anche soprattutto la collaborazione da parte del liceo Buchner della dirigente Assunta Barbieri perché c'è stata un'esperienza formativa anche per i loro studenti in quanto hanno aiutato qui a lavare diciamo durante le operazioni di lavaggio dei reperti e del materiale ritrovato quindi è stata un'occasione anche per loro di vivere proprio questa esperienza direttamente in più durante le visite appunto gli scavi erano in corso è stata un'occasione unica che noi speriamo di ripetere a più presto e speriamo che dopo tutta questa attenzione appunto siano destinati nuovi fondi per la prosecuzione di questi scavi e di un'apertura poi definitiva di Mazzola voi immaginate insomma che i turisti e i residenti di L'Acquameno e dell'isola intera diciamo in futuro possano avere un accesso ancora più libero tra virgolette agli scavi sempre contenuti lasciando lavorare ovviamente tutti gli archeologi sì questa è la nostra speranza anche perché come dicevo prima le richieste sono state tante ma anche da parte degli alberghi i turisti erano curiosi e volevano visitare questo sito quindi sì la richiesta c'è e quindi sarebbe importante diciamo proseguire in questa direzione questo comunque è stato un piccolo grande passo dopo 50 anni fare parte di questa amministrazione che in cui finalmente si riavano gli scavi per noi diciamo un grande onore ovviamente il merito è della della soprintendenza dell'università ma come comune abbiamo dato tutto il nostro supporto il nostro contributo Sindaco Giacomo Pascale si chiude questa tre giorni di apertura degli scavi di Mazzola dopo che l'area di scavo è stata riaperta dopo 50 anni diciamo in cui era pressoché ferma l'attività in quell'area è cominciato ecco la riflettione di tanti nuovi di tanti nuovi reperti diciamo è ripartita l'attività ma soprattutto c'è un grande entusiasmo nel voler partecipare a questa nuova vita di questo sito archeologico oggi per noi è motivo di di soddisfazione di orgoglio innanzitutto ringraziare voi ringraziare voi della stampa che stamattina siete qui numerosi perché era importante è importantissimo che voi dite all'esterno raccontate cosa c'è cosa si sta facendo cosa si sta facendo perché l'amministrazione comunale dell'acquameno ha sempre ritenuto questo un un importante settore in un'isola che si è sempre venduta come mare terme noi abbiamo questo sogno ambizioso di mettere di valorizzare mettere in rete i nostri siti di interesse archeologico che sono i tre siti di grosso interesse come sapete da Villa Arbusto al al quartiere Mazzola che avete visitato e gli scavi di Santa Restituta e diventare il centro culturale dell'isola e offrire al mercato turistico finalmente queste nostre bellezze non venderci più come solo mare terme che cosa accade accade che finalmente si passa dalle parole ai fatti grazie a una concreta costituzione di una filiera istituzionale che lealmente collabora penso alla sovrintendenza per quanto sta facendo nella figura della dottorista 54 penso per esempio al sovrintendente Nuzzo per quanto sta facendo giù per gli scavi di Santa Restituta penso all'università orientale piuttosto che su Rostro la bene in casa i dottoranti che abbiamo visto che avete filmato penso a quanti lavorano a questo sogno che è un sogno credo anche abbiamente condiviso quello di poter valorizzare e mettere in rete dopodiché l'auspicio e che questo lavoro poi possa fondersi a livello isolano con altri che guardano a questo settore con la stessa importanza il sindaco di Sorrera Fontana per esempio ha destinato i fondi regionali al museo su all'eremo di San Nicola all'epomeo e allora creando questo percorso noi possiamo offrire un'isola diversa e finalmente raccontare la nostra storia e intercettare un segmento di turismo importante si è passata alle parole ai fatti perché perché qui come avete visto si sta lavorando come voi avete già raccontato in passato grazie all'abnegazione alla passione civica e politica dell'assessore Tufano ha già intercettato in passato molti finanziamenti regionali di città metropolitane che sono stati destinati a Villa Arbusto e adesso sapete già che c'è un decreto già firmato con assegnazione fondi per la messa in sicurezza e la valorizzazione degli scavi di Santa Restituta non sono slogan o comizi perché è facile dire in un programma elettorale noi faremo piuttosto nell'enfasi di un comizio valorizzeremo i beni culturali si è passato dalle parole ai fatti e questa è la nostra più grande soddisfazione il progetto giù come sapete lo sta elaborando lo sta se ne sta occupando il demanio dello Stato quindi un'operazione di finanziamento e progettualità Stato-Stato noi accompagniamo questo processo con non solo con un grosso interesse ma con una grossa emozione vorremmo passare alla storia come l'amministrazione comunale che dopo 50 anni ha ripreso questa attività quindi e l'ha ripresa in uno spirito di leale collaborazione con tutti gli enti interessati sono finite quelle chiacchiere che il comune è contro la sovrintendenza o piuttosto la sovrintendenza è contro l'università e viceversa noi siamo seduti ad un tavolo di concertazione istituzionale per affrontare un percorso virtuoso che innanzitutto rende giustizia a quanti in passato si sono occupati di questa attività e ci hanno lasciato i tesori di cui noi oggi godiamo quindi è un dovere morale prima che politico a completare questo processo i lavori andranno avanti faremo la nostra parte anche presso il ministero dei beni culturali per intercettare ulteriori finanziamenti l'acquameno vuole essere al centro del turismo culturale a partire dalla valorizzazione e messirete dei propri siti di interesse che ripeto come tutti sanno e sono contento che a vedere Mazzola siano venuti in visita anche i ragazzi delle scuole perché noi dobbiamo anche poi consegnare alle future generazioni questi tesori capire da dove veniamo è sempre meglio per capire dove dobbiamo andare quindi qui c'è la nostra storia poi chiaramente voi sapete io sono un po' alcuni dicono filosofo altri mi chiamano ambizioso altri pensano che abbia voglia di una carriera politica io penso che alla fine di questo percorso noi dobbiamo anche a punto di vista turistico ripristinarla metterla in moto quella linea del turismo culturale perché come ha raccontato la dottoressa 54 anche a a sua Mazzola noi abbiamo un altro sito di grosso interesse di fronte a Cuma dove anche lì si sta lavorando e si sta investendo ad opera del ministero noi abbiamo questo sogno poi di mettere in rete questi due siti tra Ischia Mazzola Villarbusto e Cuma magari con una tratta tanto sono 7 miglia fino a Torre Gaveta che io avevo già battezzato con il sindaco di Bacoli la tratta della cultura quindi se noi possiamo ragionare a questo obiettivo il mio augurio il mio auspicio è quello di essere un giorno ricordato come sindaco per essersi occupato di questo settore che è un settore culturale che io penso che possa dare lustro lavoro, occupazione e sviluppo all'intera Isola di Ischia all'interno del mercato turistico grazie a tutti grazie a tutti